Siamo nella strada per Secciola, o Secciola, chiamatela come volete, è una strada comunale, una strada che avrebbe bisogno di una strada, cioè asfalto, di risistemare le buche di civiltà verso i cittadini e i residenti di Teramo. Questo è un rudere, sì è un rudere, però non è inagibile, non è stato dichiarato inagibile. Francesco, qui ci possiamo fare una camera da letto, oddio, vista quasi le stelle, sì, la legge morale dentro di me e il cielo stellato sopra, sì, va bene. Qui ci dormono anche, sì, dormono qui rischiando la propria vita, lì c'è anche addirittura un osso di qualche pasto consumato in maniera veloce, soprattutto c'è una borsa, una valigia, c'è un giaciglio fatto di teloni di plastica per evitare l'umidità e metterci sopra delle coperte. Intorno? Beh, intorno ci sono crolli continui, c'è dell'erba cresciuta sui crolli e ci sarebbe bisogno di un controllo della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, soprattutto della Teramo Ambiente, visto il continuo deposito e abbandono di rifiuti. Siamo nel 2018, 30 ottobre, due anni dalla scossa più dura, più forte, che ha devastato questo territorio, perché vi ricordo che sono ancora 5.000 sgomberati, Marche, Bruzzo, Lazio e Umbria, un unico cratere sismico e qui siamo ancora in queste condizioni. Benvenuti a Teramo.